Ripristinare i cammini dell'acqua e dare una mano alle associazioni impegnate nel sociale. C'è tempo fino al 30 novembre per i due bandi di Publiacqua che cofinanzieranno ciascuno con 100.000 euro progetti per il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità o particolari patologie e per la valorizzazione e fruizione di luoghi di interesse naturalistico e paesaggistico legati all'acqua. Il cofinanziamento massimo è di 10.000 euro a progetto o soggetto richiedente, fino al 50% del costo complessivo del progetto. È un contributo che noi diamo all'attività locale, che siano Proloco, CAI, associazioni di varia natura, tendenti a valorizzare il loro territorio e tendenti a ricreare forme di attrazione su quel territorio. È un contributo che noi diamo per la segnaletica, la segnaletica di questi percorsi, per la pubblicità di questi percorsi, per il mantenimento di questi percorsi e chiaramente richiedono l'impegno delle persone del territorio. Il bando iCare è improntato a curare, supportare e assistere persone disabili o con malattie neurodegenerative, oltre alle loro famiglie.